lunedì faccio il tre corno, martedì la rossa forno, mercoledì la mortadella pronto e servi, beretta, giovedì lo stinco a pranzo, venerdì l'ingua di manzo, sabato che cotechino pronto e servi, beretta, e domenica mattina la mia tavola è imbadita, pronto e servi lo zampone ed è un grande successone è beretta pronto e servi della linea cucina beretta, essa è una cuoca perfetta pronto e servi